A noi piacerebbe molto poter approvare questo ordine del giorno, però purtroppo ci sono due difficoltà, una è proprio di carattere tecnico, e cioè si fa riferimento ad una delibera regionale, perché praticamente l'asma è una malattia che la delibera regionale dei disabili gravi non ha fatto rientrare all'interno dei disabili gravi come l'asma. Ricordiamo che i fondi della SLA che erano statali poi sono stati tolti e sono confluiti nella disabilità gravissima, quindi non possiamo noi modificare una normativa. L'altra cosa è di carattere etico, a noi piacerebbe molto dare sostegno particolare a tutte le malattie neuromuscolari degenerative, non solamente l'asma, ma anche le distrofie, le miopatie, le distrofie dei cingoli, tutta una serie di malattie. Quindi non possiamo accettare questo ordine del giorno, perché si fa comunque una discriminazione rispetto ad una miopatia, rispetto a tutte le altre. Quindi mi dispiace, ma il voto del Movimento 5 Stelle su questo ordine del giorno sarà no. Grazie.